la precinta è partita ma come ne ha studiato di pasta e la rossa mannonta e la rossa mannonta e la rossa mannonta continua la ricerca della nostra presentatrice ma ecco che succede qualcosa chissà cosa sta succedendo ragazzi cos'è successo hai tagliato i vini andiamo Paolo no lascia stare guarda stavolta non mi va andiamocene a casa no lascia guarda stavolta non mi va andiamocene a casa no lascia guarda stavolta non mi va andiamocene a casa no lascia guarda stavolta non mi va andiamocene a casa no lascia guarda stavolta non mi va andiamocene a casa no lascia guarda stavolta non mi va andiamocene a casa